Stefano Tarducci confermato alla presidenza dei balestrieri di Sansepolcro. Quali sono le prime impressioni dopo questa importante conferma? La prima impressione è certamente quella della soddisfazione, anche perché essere riconfermato significa anche essere gratificato per il lavoro passato. Quindi ora affronteremo il futuro con grande entusiasmo e grande spirito di comunità, perché il Consiglio Direttivo è una piccola comunità che tutti insieme dobbiamo fare e lavorare per il bene della società. Avete già deciso quali saranno gli appuntamenti, almeno quelli più importanti, per il 2024? Prima di tutto mi viene da pensare il Trofeo del Volto Santo, che spero possa crescere e essere anche motivo di turismo e motivo di culturale importante per valorizzare Sansepolcro e la sua bellissima storia. Sempre fondamentale per i balestrieri di Sansepolcro il rapporto, il legame, la sfida con Gubbio. Il palio della balestra è la pietra fondamentale per quanto riguarda la società balestrieri. È la nostra storia secolare, quindi non va altro che valorizzata, farla crescere in maniera più sostanziale.